Ciao Luca, questo è il mio angolo bello. L'abbiamo preparato insieme in famiglia per la Pasqua, seguendo i vostri consigli. Ci è piaciuto molto, ci ha aiutato a pregare. Volevo sapere, non è che per caso avete qualche altra iniziativa in cantiere? Ci state pensando? Ciao Nonna! Ciao Nanno, aspettate bene, ti ho visto in televisione per la messa, a te proprio un bel putel. Ma adesso, a te più in televisione? Allora, mi fa piacere che stiate tutti bene lì in parrocchia. Chissà però se riusciremo quest'estate a mettere in piedi qualche campo estivo per i vostri ragazzi. Ma sì, ok l'estate, ma prima non c'è qualche altro percorso, non so, come quello ad esempio che avete proposto in quaresima? Sì, sai Don Lorenzo, durante la settimana santa abbiamo pregato con i consigli del sito della diocesi e anche i ragazzi hanno partecipato. Ci spiace interrompere proprio ora. Abbiamo qualcosa per te. Sì Nonna, faremo, faremo dei video, faremo dei video. Te li mando, non ti preoccupare. Servono a prepararsi bene alla messa della domenica. Ma no, ma non per capire quello che succede durante la messa, quello lo sappiamo, no? Ma quello che succede a te durante la messa. Così ci servirà anche dopo il coronavirus. Ciao Giulia, abbi pazienza qualche giorno. Metteremo ogni sabato un video sul canale YouTube della diocesi e sui social del seminario. Tutti i sabati. Così il sabato ci prepariamo per la messa della domenica. I seminaristi in ogni video ci aiuteranno a comprendere una parte del rito attraverso la catechesi, attraverso l'arte, la musica. E ci offriranno anche qualche spunto pratico per vivere la preghiera nelle nostre chiese domestiche. Grazie a tutti.